Il gossip sui due vipponi è ancora vivo. Durante la settima edizione del Grande Fratello VIP, Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese hanno avuto un rapporto intenso, tanto che molti telespettatori ipotizzavano che tra i due sarebbe scoccata la scintilla. Proprio di questo legame era geloso Edoardo Donnamaria che durante i reality e dopo ha avuto una tormentata storia d'amore con Antonella Fiordelisi giunta al capolinea la scorsa estate, ma questo lo sapete già. La cosa che vogliamo raccontarvi e sottolineare è un'altra, la reazione di Edoardo all'ultimo gossip venuto fuori di Antonella Spinalbese. Ma prima iscrivetevi al nostro canale e lasciate un like al video, due semplici e gratuiti gesti che per noi sono molto importanti, grazie. A distanza di tempo dalla conclusione del Grande Fratello VIP7, il portale di Linger News ha rivelato che Antonella e Antonino avrebbero trascorso una notte di passione recentemente. Fanpage ha quindi pensato di rivolgersi a Edoardo Donnamaria per chiedergli un commento in merito a questo gossip, ma lo speaker radiofonico ha risposto in questo modo Io ormai sono fuori da questa roba. Quindi la reazione di Edoardo fa capire che non si è più interessato a ciò che riguarda la sua ex Antonella, la quale, come abbiamo detto in video precedenti, ha una nuova relazione con il portiere del Tottenham, Guglielmo Vicario. Cosa ne pensate della reazione di Edoardo Donnamaria e credete che sia realmente disinteressato o vuole tenere le sue sensazioni ed emozioni lontano dai riflettori? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per essere sempre aggiornati e per darci il vostro gratuito ma preziosissimo supporto. Grazie e a presto!